e bella a tutti ragazzi sono gamer joe e bentornati su un nuovo video di pokemon go ci troviamo qui sotto questa palestra con l'uovo in attesa di schiusa mancano pochi secondi e dovrebbe essere dark rai attendiamo questi secondi ragazzi attenzione vediamo olè vediamolo dai che è lui dark rai ragazzi bellissimo 65.000 punti lotta molto alto questo dark rai ma guardate si presenta in una maniera veramente stupenda ora attendo che arrivino anche gli altri qui a raid così entriamo e vediamo se riusciamo a catturarlo eccoci ragazzi siamo dentro io al momento sono qua con questa squadra non è che vada così bene dovrei vedete il miglior counter il miglior attaccante contro dark rai è sicuramente machamp che infatti me ne mette dentro uno dovrei andare a potenziare quelli che ho a maxarli tutti perché machamp contro dark rai è il top magari fare anche qualche evoluzione di machop devo poi andare a sistemare bene la squadra appunto contro questo dark rai lasciamo scadere il tempo e ci vediamo alla battaglia e voilà let's go allenatori guardate che bello dark rai è veramente super vediamo come andrà il combattimento io vedete intanto sono dentro con eracross gli eracross che avevo catturato in brasile quando ero là in vacanza attenzione intanto però vedete che è super efficace però dark rai con palla ombra è assurdo un pokemon assurdo intanto volevo augurare a tutti buon halloween allenatori l'evento è iniziato spero state facendo grandi catture attenzione due 250 secondi più o meno e siamo a metà eccola lì ok vediamo siamo dentro con tyranitar ora tyranitar cento per cento di v questo qua vediamo a quanti secondi riusciamo a tirarlo giù groudon 100 per cento shiny il mio orgoglio questo qua è il mio orgoglio veramente un un chapette della madonna intanto siamo dentro in 14 e non avevo visto in 14 allenatori molto bene vedete che siamo appunto in 14 e viene giù abbastanza velocemente possiamo dire però sciotta i pokemon in una maniera assurda olè ce l'abbiamo fatta yes dark rai è giù è giù ora andiamo alla cattura speriamo bene ragazzi primo dark rai effettuato vediamo se è anche alto in puntilotta bam bam ragazzi bam si è spostato lì sulla destra non si vede una mazza 2091 non saprei intanto vediamo il cerchio cattura devo dire abbastanza difficile perché quando i pokemon si spostano a destra e a sinistra ottimo dobbiamo farci un attimino la mano per lanciare attenzione che intanto la vedo tosta un altro ottimo vorrei provare l'eccellente ma è dura è dura due tocchi dai dai dark rai dai che sono curioso perché non non ricordo non ricordo a quanto è il cento per cento devo andare a vedere la tabella due dai dai stai dentro dannazione aspettiamo sempre l'attacco avete visto il mio sistema di lancio centrale quando si mette laterale preferirei non lanciare dai mettiti in centro e attacca lì no assolutamente cioè è fuori dallo schermo incredibile vai in centro e attaccami aspettiamo solo l'attacco eccolo lì ottimo dai 1 2 dark rai stai dentro eccolo lì fare eccellente non è impossibile ma è molto complicato come ho detto dobbiamo farci la mano allenatori questo è il primo quindi vedete quando si sposta laterale è veramente stra complicato guardate lì che poi ha un cerchio abbastanza piccolo ottimo ancora dai 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 1 2 3 yes yes dark rai se intanto andiamo avanti con le missioni o le guardate che bello allenatori registrato dark rai con finta e palla ombra bellissimo dark rai è stupendo stupendo guardate che bellezza andiamo a valutarlo fa schifo diciamo ha comunque sia le sue belle tre stelle in difesa vediamo che è un 15 ma in attacco dove mi interessa un attimino di più è 11 quindi 11 15 12 ps 12 abbastanza schifosino però non ci lamentiamo come primo dark rai siamo stra felici è andata molto bene eccolo qua il nostro bellissimo dark rai sicuramente ne farò altri per trovarlo un 100 per cento ma non penso un 90 98 96 93 lì in giro perché è veramente bellissimo ragazzi guardate che bellezza dark rai intanto abbiamo sei caramelle che sappiamo che da evento adesso sono raddoppiate da cattura quindi ne abbiamo ricevute sei molto bene molto bene dark rai registrato vado a mostrarvi molto velocemente dove sono arrivato vedete nella missione speciale un messaggio inquietante 2019 che sono identiche a quelle dell'anno scorso di questo tipo spettro sono arrivato a 4 effettua 8 ottimi tiri 7 me ne manca uno usa 108 bacche per catturare i pokemon questa qua non è assolutamente complicata è molto facile come missione però chiaramente richiede il suo tempo dopo abbiamo le nostre ricompense qua sotto e andiamo avanti allenatori allenatori secondo dark rai andiamo let's go spero siano entrati tutti gli altri vediamo in quanto tempo tiriamo giù invece questo dark rai non ho ripristinato la squadra di prima non ho avuto tempo perché questo qua scadeva mi pare che erano ancora 23 minuti siamo arrivati qua proprio a ip a pelo dark rai si dovrebbe fare in 34 mi sembra con machamp maxati come ho detto in quattro allenatori bisognerebbe riuscire a tirarlo giù però ammazza veramente vi ammazza tutti i pokemon poi col tempo non so come dovrei provarci intanto l'abbiamo quasi tirato giù dai dai olè sono rimasto senza pokemon bene 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 2.092 16 tentativi 2.091 attenzione adesso la cattura è la solita dobbiamo allenarci allenatori vedete quando vai lì che esce dallo schermo non non si riesce a lanciare in quella posizione vai al centro dark rai vai centralmente continuo a stare lì ok continua a spostarsi dannazione dark rai eccolo attacca olè puntiamo sempre all'ottimo che dovrebbe andare è uscito subito perché è eccellente proviamo a mettere il cerchio un attimino più piccolo però si sposta ragazzi guardate non vorrei lanciare abbiamo ancora 15 tentativi per perdere una ball inutilmente potrei provare però non me la sento eccellente ce l'abbiamo fatta 1 2 potevi stare dentro ti avevo preso con l'eccellente comunque vedete un buon metodo questo aspettate che è l'incentro mettete il cerchio piccolo sull'ottimo eccellente aspettate la mossa e lanciate così un altro eccellente attenzione 1 2 non vuole saperne ci fa tribulare questo dark rai lo so già io come primo giorno intanto ci è andata bene col primo che abbiamo effettuato che l'abbiamo preso però ci sarà da tribulare veramente per la sua cattura olè dai 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 olè olè preso vediamo quindi ragazzi dobbiamo trovarlo sopra il 2100 perché mi hanno detto gli altri appunto che l'hanno trovato sopra il 2100 ed è abbastanza buono questi qua sono scarsissimi molto scarsi vabbè bene così 2 su 2 dark rai a noi yes allenatori rieccoci qua facciamo un attimo il resoconto perché ho effettuato un altro dark rai il primo che ho catturato questo qua 2091 che avete visto anche il secondo tutte e due a 2091 punti lotta era di valutazione così con 15 di difesa il secondo appunto sempre 2 mila 91 punti lotta un po così così bisogna trovarli sopra il 2110 sopra il 2110 dovrebbe essere già abbastanza buono infatti questo qua vedete attacco a 14 però niente di che niente di che il prossimo il terzo che ho fatto 2101 questo qua sono riuscito a trovarlo sopra il 2100 e infatti vedete è un 14 14 11 abbastanza abbastanza buono niente di che però ci accontentiamo ho effettuato tre ride di dark rai quelli lì intanto ho trovato anche yamask il nuovo l'introduzione che l'hanno messo dentro così lo possiamo trovare anche in forma shiny come sappiamo molto bello possiamo dire simpatico con questo medaglione sembra gli occhi rossi veramente molto bello questo qua che ho catturato intanto è un è un ciospo della madonna l'ho tenuto solo perché è il primo che ho visto e catturato vi faccio vedere molto velocemente i dark rai sotto il mio pokédex quindi qua allora dobbiamo andare fine quarta gen ecco qui dark rai che è l'ultimo 3 su 3 pokémon nero pesto ha l'abilità di far addormentare la gente e farla sognare è attivo nelle notti di luna nuova bellissimo ragazzi bellissimo dark rai l'abbiamo registrato registrato e aggiunto vi ricordo che il 100% di dark rai è 21 36 quindi regolatevi un attimo sulla sua percentuale volevo mostrarvi come ultima cosa le missioni quindi no qua missioni ho trovato questa qua di halloween cattura 5 ghastly o shappet che come ricompensa da un pokémon e sarà e snizzle speriamo di trovare molti shiny in questo evento ci terrei magari a trovare qualche nuovo shiny snizzle shiny ce l'ho già come altre missioni dovrebbero esserci me ne so scritte giù un paio perché sono una due tre quattro cinque sei ma quelle che danno come ricompensa i pokémon sono quattro una quella di snizzle l'abbiamo già vista dopo abbiamo per halloween effettua tre eccellenti curvi che da golet come ricompensa 509 punti lotta per lui è il 100% dopo abbiamo sconfiggi il team go rocket e da yamask come ricompensa 420 il suo 100% possibile shiny speriamo di trovare lui visto che l'hanno appena inserito ed è un nuovo pokémon dopo come ultima missione abbiamo di effettuare cinque foto ai pokémon di tipo spettro e come ricompensa da sableie anche per lui 632 punti lotta il 100% io mi concentrerei magari più su queste missioni piuttosto che le altre perché possiamo trovare sempre anche quelle non dell'evento di halloween ma quelle normali diciamo spero di trovarne tante di missioni così golet non ce l'ho ancora quindi voglio registrarlo speriamo di trovare quella missione lì e sicuramente yamask speriamo bene allenatori di trovare un bellissimo yamask shiny fatemi sapere sotto nel box commenti come vi è andato il vostro primo ride e per oggi ragazzi da gamer joe è veramente tutto spero tanto che questo video sia stato di vostro gradimento e se è così vi invito a lasciare un bellissimo like per avere tutto il vostro supporto gamer joe vi saluta e ci vediamo alla prossima ciao allenatori ciao